Non abbiamo commenti da fare su Morella, ci fermiamo un attimo, tra poco ritorna il DJ Time con Supercar dal vivo da Sib di Rimini, state con noi! Sib di Rimini, gli ultimi dieci minuti del DJ Time di martedì e abbiamo un'altra performance dal vivo, visto che lei è italiana, quindi volevo prima che cantasse scambiare due parole con Michela. Hai aperto il microfono di Michela? Prova? Si sente? Si sente la sua voce? Si sente? Si sente. Michela quanti anni hai? 17. 17 anni? Sei autrice del testo della canzone? No, siamo tutti e tre, Supercar. Hai due compagni di avventura diciamo? Ricchi e Alberto. Di dove siete ragazzi? Di Ponte Cagnano. Che effetto fa a sentire la propria canzone su tutte le radio, in tutte le discoteche, in tutta Europa? Così giovani? Un bell'effetto. Bene, dal vivo per il DJ Time, Supercar! E' un bel come si sente? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.